Grazie per aver accettato di fare questa intervista e iniziamo con la prima domanda, che è quella relativia ai principi teorici e clinici che ritiene irrinunciabili o fondanti nel suo lavoro con i pazienti. Questa mia appartenenza al flusso di pensiero di Mara Selvini comporta che la sintesi che lei ha operato sul piano scientifico tra un'attenzione all'individuo e successivamente un'attenzione alla famiglia, in me sia stato caratterizzante di un percorso al contrario, perché io l'ho conosciuta nel momento in cui lei si rivolgeva all'ambito familiare e ho recuperato poi nella mia personale formazione e anche nel rapporto con lei e ciò che era l'attenzione alla soggettività. Tra me e Mara ci sono 30 anni e questa è la spiegazione di questo processo. Io ho conosciuto appunto Mara nel 69-70, proprio all'epoca del suo viaggio, da una carriera già molto affermata di psicanalista a un'attenzione alla dimensione familiare. L'attenzione alla dimensione familiare ha richiesto per lei e quindi ha proposto a me un capovolgimento del tipo piestemologico, cioè l'individuo è stato come messo tra parentesi ed è stato messo a fuoco principalmente il discorso interazionale, cioè come l'individuo risponde nella relazione ed è influenzato dalla relazione. con tutto il periodo dell'apertura e della fondazione della posizione sistemica. A differenza di altre dimensioni sistemiche, noi come gruppo nel processo di approfondimento di quali erano i nostri criteri guida, poi ci siamo, dico sempre noi perché la mia vita non è mai stata solitaria, sempre stata in un'equip e quindi con Stefano Cirillo che è stato mio compagno di scuola, l'università e poi la specialità e poi col figlio di Mara, Matteo che è priori di noi, noi abbiamo anche un po' avviato nella pratica professionale e ora è un nostro assolutamente pari generazionale, abbiamo sempre lavorato insieme. Quindi questi pensieri che io ho non sono miei, sono nostri. E ci siamo rivolti in questo nostro a recuperare tutta questa valenza soggettiva ed individuale che è stato il patrimonio di Mara nella sua formazione iniziale. perché Mara ha cominciato a lavorare dopo la guerra e il paradigma psicoanalitico era lungo accreditato e quindi abbiamo fatto questo lavoro non nel senso che siamo diventati psicanalisti ma nel senso che l'attenzione alla soggettività è diventata importante alla soggettività del terapeuta e alla soggettività dei suoi interlocutori. Questo è il nostro paradigma, diciamo, sistemico-individuale o individuale-relazionale. Può essere un pochino più specifica rispetto a come viene utilizzato poi questo concetto di intersoggettività e di soggettività poi nella clinica. Nel senso che io mi sento quando incontro una famiglia, operazione che faccio abitualmente, mi sento un soggetto, come il perno di una ruota, che mette a fuoco i vari interlocutori ma che è attento al fatto che sono una ruota e che quindi la direzione che prenderanno i raggi dipenderà dal movimento dell'insieme. Ok. E quando io sono in seduta io mi sento proprio così, il perno di una ruota. Ok. Come si traduce questo nel lavoro clinico? Nella libertà, nel senso che incontro le famiglie e le coppie, i soggetti, i bambini, i bambini da soli con i loro familiari. Quello che sento che è necessario, naturalmente non solamente sul piano, diciamo, improvvisato, ma su un piano che è coerente con una logica tecnica e quindi, non so, preferisco sempre andare dal generale al particolare e se non raramente dal particolare al generale. Se per esempio ho patologie gravi, adolescenti o infantili, parto senz'altro dalla visione dell'insieme sistemico del motivo di appartenenza e fino a mettere a fuoco le storie individuali. Se mi si presenta un soggetto autonomo, realizzato, adulto, problematico, accetto di entrare in una relazione individuale con lui e lo apro piano piano a delle dimensioni più relazionali come verifica, come aumento della sua consapevolezza e anche come miglioramento delle sue risorse emotive, nel senso che scoprire di avere una famiglia fa bene anche a 50 anni. aiuto a scoprire che quella famiglia che si riteneva inesistente è una fonte di possibile risorsa. Ci sono delle tecniche specifiche che utilizza? La convocazione. Questa è la tecnica, è la convocazione. Naturalmente la convocazione comporta anche un adattamento all'interlocutore che ho davanti. Adesso mi ha chiamato una signora ucraina, stamattina, per un bambino di 4 anni che viene etichettato all'asilo delle maestre con un bambino con probabile ADHD ma anche con probabile disturbo della relazione perché dicono che è un bambino che non parla e questa signora ucraina quando mi portare il suo bambino non riceverà da me solamente un approccio verbale cercherò di stare con questo bambino attraverso una mediazione di gioco, di proposte che dipendono dalla sua dimensione interlocutoria. Il livello di problema che vado ad affrontare all'età del mio interlocutore mi condizionano. Se mi arriva anche un paziente grave, adulto, psicotico, stiamo su un piano conversazionale ma certamente i temi possono essere più concreti, contingenti, realistici per aiutarlo a darmi notizia di sé anche il suo delirio se non c'è altro, che a disposizione è un modo con cui starò con lui per conoscerlo. Ok. Il cambiamento come lo monitora e come lo valuta? Quando noi riceviamo una domanda di terapia la domanda viene formulata in modo da dover essere tradotta in obiettivi e quindi noi valutiamo il cambiamento sul piano della modificazione degli assetti per cui siamo stati consultati, che sono gli assetti sintomatici per lo più. Ma anche noi abbiamo dei criteri attraverso cui attribuiamo la dimensione sintomatica a una dimensione strutturale e quindi cerchiamo di lavorare anche sulla dimensione strutturale. In questo si è sottovalutato, secondo me, il grande contributo dell'epoca paradossale. L'epoca paradossale, che è stata un'epoca della prima terapia familiare, aveva la caratteristica di provocare il paziente. La provocazione del paziente mostrava, cioè tendeva ad intaccare contemporaneamente il piano sintomatico ma anche il piano dei pensieri del paziente, cioè il piano strutturale, non il lungo allevamento di un altro carattere, ma l'attacco ai criteri di giudizio che il paziente aveva sulle relazioni. Lui aveva l'impressione di essere, poniamo, un castigo, un'aggressione, una vendetta, di stare agendo delle azioni rivendicative e invece gli si mostrava l'utilizzo che il sistema familiare faceva delle sue azioni rivendicative, mostrando proprio che i suoi pensieri dovevano essere rivisitati. Qui dice sempre questo aspetto, l'aspetto del sintomo e l'aspetto della struttura che regge il sintomo, che può essere anche opposta, cioè lo stesso sintomo, noi ci siamo occupati tante volte di disturbo alimentare perché questa era la matrice di Mara, lo stesso sintomo, un digiuno, può essere, può avere delle radici molto diverse. Il tentativo di dire io di una giovane dipendente da sua madre che si differenzia solo perché mangia solo le zucchine e per il resto fa tutto come sua mamma, si veste come sua mamma, pensa come sua mamma, agisce come sua mamma e l'unico modo in cui dice io sono le zucchine. E ci può essere invece un digiuno che è il segno di una costruzione, di un'immagine idealizzata di sé. Perché io sono una creatura speciale che posso fare a meno del cibo e quindi sono superiore alle regole che la comunità si dà e che il mio corpo stesso si dà. Chiaramente prendere in carico queste due ragazzette non è la stessa cosa. La chiusura della terapia. C'è solo un concetto strano per me, secondo me le terapie si interrompono ma non si chiudono nel senso che le persone, io per esempio lavoro da 40 ore e appunto io sono queste famiglie che sono venute perché avevano, poniamo, un conflitto di coppia. Abbiamo fatto qualcosa, poi sono venute per la tossicodipendenza di un figlio, poi sono venute per la crisi coniugale di un figlio. Non so quando è finita, quando moriamo è finita. Perché diventiamo in qualche modo, come è giusto in alcuni casi, anche delle figure che accompagnano la vita. Io mi sono occupata di disabilità, beh, mi sono occupata e le persone sanno che se sono nei guai mi contattano. Quindi questo concetto di finire è quando abbiamo tenuto degli obiettivi, li abbiamo tenuti. Se dopo la vita ci pone negli altri interrogativi, è chiaro che noi siamo depositari di una lunga storia, di molte vicende condivise e sarebbe insensato riguardarsi a qualcun altro, dovendo riraccontare tutto da capo, che c'è un filo nella nostra vita. Per cui il terapeuta che accompagna il ciclo di vita del paziente, ma anche più generazioni a volte. Ah sì, certo, per più generazioni. Uno dei bambini, e anche sull'aste di pari generazioni, per esempio uno dei bambini autistici, di cui mi sono occupata negli anni 80, sua madre ha una sorella che ora ha una figlia con un ritiro importante, una ragazza con una laurea in ingegneria brillantissima, che non scambia parola con nessun altro essere umano, tranne che con i libri e i professori per l'esame. Quando sono stati molto in pensiero, me l'hanno mandata. Certo. Perché io... Ho già una memoria storica. Ho una memoria anche della vita di sua madre, oltre che di quella di sua zia, pure la vita dei suoi nonni materni. È bene questo, è una cosa naturale. Poi naturalmente invece non è che fanno tutti così, se no sarebbe anche da noi. Ci sono nuovi ingressi, terapie della soggettività piuttosto rapide, che funzionano bene, ma poi non ci sono riprese, no? Dipende anche dall'importanza, no? I rami familiari sono più coinvolti nella patologia grave e quindi spesso abbiamo dei ritorni di fiamma. Ok. Il paziente difficile, come ritiene che si modifichino le sue tecniche o procedure con questo tipo di paziente? Anche se in realtà... Noi erano solo pazienti difficili e quindi rarissimamente abbiamo pazienti da studio psicoanalitico, anzi anche se adesso la psicoanalisi occupa di queste cose più di quanto non facessi in passato. Ma raramente abbiamo pazienti che vengono con le loro gambe. Noi di solito abbiamo persone che vengono con una pressione dell'ambiente, cioè l'ambiente che si attiva per ottenere una presa in carico. Perché per quel che riguarda i tipi di pazienti che arrivano qua, spessissimo sono non richiedenti. Abbiamo raramente... Raramente non è neanche la cosa giusta. Abbiamo ragazzi che poi diventano richiedenti, adulti che vengono come richiedenti ma non sono in grado di sopportare un processo terapeutico e devono essere, diciamo, fiancheggiati dalle loro risorse di tipo familiare, dove l'asse principale è una terapia individuale, ma i supporti che vengono dalla loro rete affettiva diventano importanti per ottenere una continuità sufficiente. Perché sono pazienti che stanno magari male e in certi periodi tendono a scomparire, quindi che possono essere incoraggiati a proseguire, è una cosa importante. Poi naturalmente abbiamo anche pazienti che ci chiedono una consulenza ordinaria, come potremmo essere io e lei, come io e gli amici della scuola, però non sono il target abituale. Anche se sono un target che noi abbiamo modelli in grado di trattare. La terapia individuale sistemica quando e quanto può prescindere, secondo lei, dal coinvolgimento dei familiari significativi? Può prescindere, cioè qualche volta il familiare è necessario, qualche volta è un aiuto, qualche volta è un testimone, è sempre utile perché offre al paziente e al terapeuta un punto di vista interessante. Per esempio noi anche come avrà già detto Matteo, nella scuola per gli allievi facciamo questa giornata multifamiliare in cui tutti gli allievi di un gruppo vengono con i loro genitori e sono giornate sempre, naturalmente non sono necessarie, gli allievi sono in grado di raccontarceli del loro genitori, ma essere insieme e mostrarli gli uni agli altri e a noi terapeuti è un'esperienza costruttiva, sempre, costruttiva per i familiari che prima sono agitati e poi quando vengono non vogliono più a casa e costruttiva per i ragazzi stessi che ne misurano in questa occasione come un'oggettività, li vengono come con gli occhi dei loro compagni. Quindi diciamo l'allargamento è una cosa utile e non è necessario. Dire necessario... Ci sono dei criteri particolari che utilizza per decidere se... io lo propongo sempre in principio perché per una correttezza lo propongo non lo impongo però dico mi piacerebbe poi conoscere le persone di cui parliamo e i criteri sono i criteri con cui si sceglie chi sono le persone che possono dare un contributo. Quindi non so, io mi occupo adesso di un artista di 43 anni tra i figli che viene perché si accorge che ha una irregolarità nella gestione dei figli nel senso che gli scappano delle condotte impulsive che le disparentano non che li picchi ma che la sua furia è terrorizzante quando va in scena e quindi lui viene per la paternità poi dopo salta fuori che ce n'era bisogno di una consulenza perché ci sono così sostanze irregolarità di vita rapporto in questi figli sono di più legami legami stabili che non fanno stare molto male non dormi insomma c'è un accorteo di sintomi importantissimo in cui io dico mi piacerebbe vedere delle persone questo uomo è rimasto orfano e si è dato a una vita bohemia da giovanissimo 14-15 anni e non sa niente non ha ricordi del passato che ha dei nuclei traumatici che viaggiano e quindi anche c'è una perdita di memoria retroattiva di matrice traumatico e quindi chi quando come le sue donne sono volage no i suoi bambini sono piccoli anche se i suoi bambini sono stati degli uomini testimoni li abbiamo visti tutti con le loro madri e per vedere come per far vedere a lui come loro lo vedono ed è stato un passaggio utile poi c'era un bisogno anche di una testimonianza del passato che lui non ricorda e abbiamo preso contatti con gli anziani parenti di sua madre una sorella di sua madre che ci ha detto degli importanti contenuti che lo hanno anche aiutato a ripescare un senso di ciò per gli accade quindi qual è il criterio il criterio è l'utilità e anche la disponibilità beh il paziente non è mai disponibile a questo va convinto ma piano piano quando no anche la disponibilità della no quello non mi capita mai che si rifiuti ah si cioè le persone se si sceglie la persona che ha un legame e che è effettivamente una risorsa cioè si cerca non si invitano tutti in un corpo no che comprende la finalità non c'è qualche mai ma nemmeno i genitori anzianissimi sono dei testimoni straordinari perché una delle belle cose che si impara in un lavoro come questo è che la gente cambia magari anche delle persone che da giovani avevano delle difficoltà non hanno esercitato la funzione genitoriale in maniera appropriata e hanno avuto difficoltà a comprendere l'effetto che le donazioni facevano sui figli eccetera 30 anni dopo sono in grado di fare un passaggio e dire mi dispiace non ci sono riuscito ero in questa difficoltà ed è miele sulle ferite del paziente per cui la difficoltà più del paziente mai quasi mai io perlomeno probabilmente con garbo riguardando anche queste vite in maniera empatica come la nostra in un'altra parte cercando di avere compassione di noi e compassione degli altri terapeuta generation free generation free allora siamo all'ultima domanda che riguarda l'integrazione con gli approcci non sistemici cosa ne pensa effettuato del bene pur che la faccenda non sia una micellanea ci sono delle attenzioni per esempio certamente noi abbiamo avuto un'attenzione alla bibliografia psicodinamica ovviamente abbiamo avuto un'attenzione ai testimoni psicodinamici dei movimenti di transfer perché anche noi nella valutazione del sistema familiare della soggettività di ciascuno dobbiamo anche tenere in seria considerazione il nostro sentire cioè cosa il comportamento del paziente suscita in noi e quindi l'importanza di una coscienza soggettiva che si declina si mette a fuoco quindi abbiamo sicuramente dei debiti abbiamo anche dei debiti grandissimi a tutti studiosi dell'attaccamento e dello sviluppo a tutti gli studiosi del trauma all'integrazione di approcci che possono essere strategicamente utili come un approccio di EMDR per la dimensione traumatica che noi facciamo assaggiare ai pazienti perché agli allievi perché se ne sentono l'utilità possono farci ricorso questa è una tecnica specifica non è una visione però è certamente una tecnica utile per certe strategie anche contributi che vengono poniamo dal tema cognitivo sono stati qualche volta integrati naturalmente in una maniera ordinata mentre una tecnica come EMDR va proposta all'interno di un processo terapeutico quando hai in chiaro alcune le determinanti hai un bisogno focale di chiarimento su un episodio su dei fenomeni dei target specifici eccetera allora è bene che tu abbia una risorsa tecnica per fare riferimento ma il tuo pensiero deve essere ordinato non può essere un pensiero dove si va a caso ci deve essere una struttura ordinata che parte dal sistema relazionale alle soluzioni soggettive alla storia dello sviluppo agli eventi esterni perché la storia relazionale non è avunsa da un contesto storico questa signora del bambino stamattina una signora ucraina è qui da dieci anni ma ha un marito e una figlia che sono qui solo da quattro e questo sarà qualcosa nella loro vita anche nella vita di questo bambino che ha solo quattro anni no? Ok le otto domande sono finite c'è qualcosa che vuole aggiungere che tiene importante mi sembra che basta grazie mille che vuole aggiungere